Il duca e la duchessa del Sussex sono stati incoraggiati a continuare a presenziare agli impegni da soli per sfruttare i propri punti di forza. Il principe Ferry e Meghan Markle sono stati esortati a capitalizzare i propri punti di forza mentre continuano a dividersi professionalmente, che ha visto la coppia impegnata in impegni da sola negli ultimi mesi. Sebbene in passato si presentassero insieme agli eventi, ora il duca e la duchessa del Sussex stanno progettando di dedicarsi anche ad impegni separati nel prossimo futuro, nel tentativo di stabilire la propria immagine di marca. Ciò avviene dopo che l'immagine del marchio Sussex stava iniziando a diventare tossica, secondo l'esperto di pubbliche relazioni Il Coram James. L'ex corrispondente reale della BBC Jenny Bond, ora ha affermato di credere che intraprendere strade separate per quanto riguarda le loro carriere sarà vantaggioso per loro perché avrà un impatto doppio. Secondo GB News, Jenny ha affermato. Penso che Ferry e Megan stiano dimostrando di poter perseguire efficacemente interessi separati e, si potrebbe sostenere, di avere un impatto doppio, poiché riescono a coprire molto più terreno. Mi sembra abbastanza sensato che ognuno di loro sfrutti i propri punti di forza individuali. Ferry si concentra principalmente su opere di beneficenza e questioni sociali, mentre Megan segue una strada più commerciale. Deve certamente dare loro più argomenti di cui parlare durante la cena. Penso che possano ancora avere un impatto reale quando lavorano insieme.